Perché legno? Perché il legno è sinonimo di leggerezza, di rapidità, di sicurezza, di esattezza e di rispetto totale dell'ambiente. Partiamo dal primo punto, cioè la sicurezza nel lavoro in cantiere e nella posa. Allora intanto le strutture di legno, come potete vedere, sono strutture che non hanno spessore molto elevato e sono soprattutto strutture leggere, quindi vuol dire che risulta molto semplice, molto facile la loro manovrabilità. Non è detto che sia obbligatorio avere una gru fissa da cantiere, possono essere anche direttamente manovrate da un braccio gru da camion. Quindi ovvio che la corretta posa, esecuzione e trasporto di questi materiali leggeri riducono anche notevolmente il rischio di infortunio all'interno del cantiere. Nello stesso tempo si riduce il rischio di infortunio anche perché c'è la rapidità nella lavorazione, vuol dire non avere tempi lunghi per costruire un cantiere. Pensate che le pareti che state vedendo ora sono state consegnate in cantiere ieri mattina, quindi in una giornata hanno già posato praticamente quasi tutto il primo piano. L'intenzione è nel giro al massimo di una settimana raggiungere completamente finita e terminata la struttura grezza in legno dell'intero edificio.